Regalo di ferragosto del Ministero per i Poli Museali molisani. Il 13 agosto il Ministro Bonisoli ha firmato il decreto che di fatto fa perdere al Molise la direzione territoriale del Polo Museale che sarà accorpata all'Abruzzo. Il primo provvedimento che in sostanza dà il via libera alla riorganizzazione interna del Ministero per i Beni Culturali. Il decreto entrerà in vigore tra pochi giorni, il 22 agosto, per la precisione. Il provvedimento ministeriale stabilisce le disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento dei musei e prevede lo scioglimento dei Poli Museali. A loro posto le direzioni territoriali delle reti museali, 10 in tutto. L'accorpamento non riguarda solo il Molise, le reti museali saranno infatti quelle del Piemonte e della Liguria, di Lombardia e Veneto, dell'Emilia Romagna, della Toscana, del Lazio, della Campania, della Puglia e Basilicata, della Calabria e della Sardegna. Il Polo Museale del Molise è stato istituito nel 2014 con la riforma del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo con l'obiettivo di potenziare l'attività di valorizzazione dei siti culturali italiani ed è attualmente diretto da Leandro Ventura. Una struttura dirigenziale presente sul territorio sicuramente è più efficace per la promozione del patrimonio. L'accorpamento con l'Abruzzo rappresenta quindi un passo indietro da questo punto di vista. Il tutto mentre lo stesso Ministero ha avviato le procedure concorsuali per oltre 1.500 assistenti da assumere a tempo indeterminato nei musei regionali, tra i quali sette in Molise, con le domande che dovranno essere presentate entro il 23 settembre. Intanto il Molise perde un altro importante presidio.